Ben trovati da Carlo Bellotti al Trastevere Stadium in Roma 26esimo turno del girone F di Serie D Si scontrano Trastevere e Cass e Nuovo Vomano Si attacca dal lato destro, serie di dribbling Movimento di Proia che si muove e riceve tra le linee Attenzione a Corsetti che si è allargato Uno contro uno in area di rigore Corsetti sinistro e un cross Dall'altra parte il destro Pallone salvato sulla riga, clamoroso, sul tiro di Crescenzo Primo squillo del Trastevere Poi invece De Gidio la tiene in campo Alfieri gliela restituisce Attenzione a De Gidio che può scatenarsi Punta all'area di rigore Poi prova il destro Il pallone spassa ma è fuori dallo specchio Alla fine alla meglio il capitano ospite Il lancio lungo di Sanseverino Ancora De Gidio, una due davanti Allora appoggia al centro Attenzione il dribbling poi la sposta sul mancino Il sinistro Semprini para su Alfieri Sì, alla fine scacco Poi Ludovici sul piede di Proia Movimento incontro di Fioretti Poi allargato Il pallone di ritorno Ancora Fioretti in area di rigore Il destro E il vantaggio del Trastevere Con Giordano Fioretti 1-0 al ventesimo Allontana di fatto il gioco Ma servendo Foglia Il destro di Foglia Sguardo in avanti per Pasqualoni Che conta ai passi Poi calcio in porta Traversa Il pallone poi allontanato Provando l'1-2 con Macri Poi lancio In zona Fioretti Pallone raccolto dalla difesa Solo per un istante Macri strappa il pallone Vuole l'ingresso in area di rigore Macri col mancino È un passione all'attacco Che si sviluppa Da parte del Castelnuovo De Gidio Sanseverini Mette il cross sul secondo palo Colpo di testa Semprini Non riesce ad arrivare Poi sul tocco dell'avversario Trova Cervoni Fioretti di prima Attenzione a Macri Che si è mosso bene In posizione regolare Macri vuole il cross Natale E poi lancia Chinappi Macri resiste All'intervento avversario Può entrare le linee Trova Corsetti Ingresso in area di rigore D'esterno Verso Crescenzo Alto Salta Chinappi e Crescenzo Poi dall'altra parte Il movimento di De Gidio Che di testa Trova Sanseverino Si butta dentro Il capitano del Castelnuovo Sanseverino vuole andare al cross Che arriva adesso Col mancino Attenzione a scacco Colpo di testa Il pallone lì Semprini Miracolo E poi De Gidio Il tap in Dell'1-1 Movimento di Foglia Sinistro Che De Gidio Lascia scorrere Sanseverino In area di rigore Cora Sanseverino Il pallone è alzato Colpo di testa Fuori Stianni Allora Cercato Corsetti Attenzione arriva Macri Dall'altra parte Lo stop di Macri Il pallone tra le linee Fioretti Salta il portiere Arriva il fischio Calcio di rigore Fioretti Fischia Virgilio La rincorsa Di Fioretti Col destro Supera Natale Riporta avanti Il Trastevere Con la doppietta E allora Al ventesimo 2-1 Anticipo secco Di Giordani Crescenzo Gli toglie il pallone Per lanciare Corsetti Buona la posizione Ancora Corsetti Saltato un avversario Corsetti Calcio a Natale Gidio Pallone che arriva Messo fuori Attenzione Raccolto in area Conclusione Con deviazione Arriva il fischio Del direttore di gara Calcio di rigore Per il Castel Nuovo Pronto Coli Sidi Cheba Fischia il direttore di gara La rincorsa Di Cheba Il pareggio Del Castel Nuovo Fischia il direttore di gara Batte Massimo Giordani si è mosso Il colpo di testa Il colpo di testa Santilli Crescenzo Lancio profondo Si è mosso in area La penna In area di rigore Chiude tutto E allora Finisce qui Fischia tre volte Il signor Virgidio Si chiude due a due Tra Trasevere E Castel Nuovo